Arriva qualcosa Qualcosa che ha fame di sangue Che cos'è? Il demogorgon Nooo, siamo nella merda E andiamo Ciao Ci vediamo domani Buonanotte ragazzi Baciami tua madre Will è sparito Non so dove si è 99 volte su 100 Quando un ragazzo scompare Il ragazzo è con un genitore o un parente E che mi dici dell'altra volta? Cosa? Tu hai detto 99 volte su 100 E quell'altra volta quella Will! 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 Ragazzi dobbiamo tornare indietro Ragazzi avete sentito? Non è Will Hai dei problemi Vero? Abbiamo sigillato l'area E' da qui che è venuto? Sì E la ragazza? Non può essere andata lontano Trovatela Credi che sia una coincidenza Per averla trovata Dove Will è scomparso? Sta succedendo qualcosa qui Ma che diavolo? Lei sa di Will Puoi raggiungere Will In qualche modo? Sì Nessie E se invece di seguire Will Io avessi Seguito le tracce di qualcos'altro? Io andré Per aver guardato? No Io e